Ciao a tutti! Oggi ho una fantastica sorpresa per voi! Un ospite speciale che è venuta a trovarci da un posto molto, molto lontano. Vi presento... La regina Amelia! Ciao a tutti! Oh, ma vi prego, chiamatemi Amelia. Sapete, regina Amelia è un po' troppo, beh, formale. Oh, ma me piace tanto! Passiamo un sacco di tempo a parlare di principesse, ma le principesse possono diventare regine. È così! Quindi oggi celebriamo tutte le regine, e in particolare la regina Amelia! Io sono una grandissima fan del vlog di Barbie, una delle più fedeli. E sapete che lei è venuta a farmi visita a Floravia e mi ha aiutata a trovare il coraggio per diventare ciò che volevo essere. Oh, ehi, che succede? Non notate qualcosa... Di un po' strano in noi? Ci siete cascati? Io sono la regina Amelia! E io sono Barbie! Stiamo scherzando! Ma ci assomigliamo proprio tanto! Non è vero! Infatti, questo ci ha fatto vivere un sacco di strane avventure! Lasciatecelo dire! È stato fantastico! Ha finto di essere me per un po'! Sì, io ero la principessa Amelia! Desideravo una piccola pausa! Un po' di tempo per essere me stessa, capite? Una pausa dalle responsabilità di corte! Quindi, grazie Barbie! Wow! Che bella avventura è stata! Già! Qualcuno ha cercato di rubare la sua corona! Una cosa da pazzi! Proprio da pazzi! Ma ve lo racconteremo poi! Sì, ve lo prometto! Ok, ho detto ad Amelia che poteva decidere cosa fare oggi e lei ha scelto il gioco Indovina la parola! Sì! Questo è uno dei miei giochi di parole preferiti! Ok, sapete come si gioca! Prendete un pezzo di carta che ha scritto una parola, descrivete il significato della parola e gli altri devono indovinarla! Visto che sei mia ospite, inizi tu! Oh, aspetta! Cosa deve fare chi sbaglia la risposta? Oh, oh, non ci avevo pensato! Io sì! Oh, oh! Chi sbaglia a rispondere per penitenza mangerà un affetto di limone! Oh, ragazzi! Ok, allora cominciamo! Molto bene! Piccolo animaletto agli aculei? Il porco spino! Sì! Bene! Allora, ci sali sopra e sfidi le onde... Tavola da surf? Sì! Oh, una difficile... Forza! Un fiore di campo... Giallo e bianco... E... Si può soffiare? Oh, lo so! Dente di leone! Sì! Ok, forte! Allora... Potrei dire questa parola tutto il giorno, mi rende felice! Sono piccoli animali, ne abbiamo quattro... Cuccioli? Oh, sì! Cuccioli, 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 cuccioli! Hai ragione! Solo la parola mi fa sentire felice! È proprio così! Bene, eh... Ti scrivi sopra e ci puoi trovare tutte le informazioni del mondo! Oh, il computer! Sì, è giusto! Ho tutte le risposte giuste! Oh! Ma sinceramente... Io adoro il sapore del limone fresco! Anch'io! Oh, posso dirlo io? Certo, ma prego, Regina Amelia! Pace!